Musica Cari amici di Fano TV, ben trovati. Questo è il primo dei due approfondimenti in studio dedicati alla Fano dei Cesari. Fanum Fortune, dalla 12 al 16 luglio, ritorna nella nostra città per celebrarne la storia, le origini, la cultura. Diamo il benvenuto all'assessore Lucarelli, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, ritorno a questo appuntamento, tanto atteso dai fanesi, ma non solo perché vengono tanti turisti da ogni parte d'Italia ad assistere a queste celebrazioni. Sì, è vero, è veramente una grande attesa che già si respira da quando abbiamo cominciato, insomma, detto che anche in questo 2023, dal 12 al 16 luglio, sarebbe tornata la Fano dei Cesari. Insomma, già l'anno scorso l'abbiamo voluta riportare come la conosciamo, dopo le difficoltà del Covid. Quest'anno, obiettivamente, abbiamo iniziato l'organizzazione nei tempi opportuni e devo dire che sono tante le realtà fanesi che stanno partecipando e collaborando con noi nella realizzazione di questa manifestazione. Quest'anno, tra l'altro, ci sono diverse novità strutturali, per esempio. Allora, sì, una decisione che abbiamo preso perché la zona del Pincio, come la conosciamo, così trasformata, con la sabbia, la paglia, gli accampamenti che prendono spazio in tutta l'area del Pincio e la necessità di trasferirsi anche nelle mura della Porta della Mandria per allungare gli accampamenti, aumentare le didattiche dei gruppi di rivocazione storica che arrivano da tutta Italia, ci ha aperto la mente e abbiamo progettato una nuova Fano dei Cesari. Cioè, di fatto, l'area enogastronomica e la cucina non sarà più in via Corradoni, via delle Rimembranze, zona totalmente dedicata alla ricostruzione storica e quindi chi andrà lì si troverà proprio in un'altra epoca. Ma abbiamo deciso proprio di trasferire totalmente quell'area, l'abbiamo portata in Piazza Andrea Costa, così avremo un'area prettamente storica, che è un'area più goliardica, dove comunque i menu che saranno preparati saranno attinenti anche all'Antica Rome, dove lì, grazie alla Proloco di Fano, si potranno anche trovare una serie di serate di spettacolo, eventi, attività per coloro che, dopo aver magari visto le attività storiche, gli spettacoli che saranno presenti nell'Arena del Pincio, potranno anche godersi un piatto romano e magari godersi degli spettacoli in una piazza, che è meravigliosa, che sarà appositamente dedicata a questo. Io farei anche un commento sulla partecipazione della comunità a questo appuntamento. Sì, che devo dire, negli anni è veramente sorprendente, non soltanto per il gruppo organizzativo, perché devo dire che questa manifestazione ha un coordinamento generale, ma una serie di associazioni che dal primo anno ci sono spese, quindi sono Colloni e Afanestisi, Macchia e Lenon, Noi di Sant'Orso, Proloco Fano un Fortuna, realtà che guardano alla ricostruzione storica molto filologica e quindi troviamo delle rappresentazioni qui a Fano che è veramente difficile trovare anche in altre parti d'Italia, ma poi abbiamo una partecipazione diffusa grazie a Noi di Sant'Orso che parlerà e farà giocare i bambini con la storia, quest'anno con delle bellissime novità che poi saranno raccontate e che renderà la manifestazione molto inclusiva. Abbiamo le fazioni che sono state coinvolte già da primi giorni e tutti gli anni sono coinvolte che veramente mostrano voglia di partecipazione, anzi ne approfitto per dire a tutti gli ascoltatori che chi vuole partecipare alla Fano dei Cesari potrà contattare i responsabili di fazione e di fatto partecipare sia agli eventi che si terranno il sabato sera, eventi che guardano all'arte, ma anche alla festa che è a Baccanaglia dove tutte le fazioni si ritroveranno per festeggiare la Fano dei Cesari, ma anche alla grande parata che avverrà domenica, anzi una raccomandazione, chiamate i responsabili di fazione perché dovrete partecipare attivamente anche dal punto di vista storico per far vincere la fazione e per dare una rappresentazione artistica come la Fano dei Cesari Merita. Oltre a questo sono tanti i gruppi di rievocazione che vengono da fuori, ma stiamo aprendo delle collaborazioni in più. Ad esempio quest'anno Fondazione Aquileia e l'itinerario culturale del Consiglio d'Europa della Rota dei Fenici saranno con noi perché parleremo di come le città che hanno a che fare con l'antica Roma, che nascono da quel periodo storico, possono collaborare insieme per comunicarsi meglio anche a livello europeo. Quindi la Fano dei Cesari è una manifestazione creata da tutta la comunità cittadina, una manifestazione che sta diventando una manifestazione di vero interesse nazionale, ma che guarda e strizza l'occhio anche tutte le altre realtà nazionali ed internazionali per comunicare meglio questa volontà e la civiltà romana e la storia e la cultura delle nostre città. Forniamo anche qualche dettaglio tecnico pratico sulla modalità di partecipazione ai vari appuntamenti. Sì, perché già dall'anno scorso molti ci chiamavano dicendo ma come faccio a partecipare agli eventi e soprattutto a prendere spazio sulle tribune? Perché quando arrivo lì sono già occupate. Perché è vero? Perché alla fine i posti nelle tribune per assistere agli spettacoli non sono tantissimi. Per cui da quest'anno gli spazi saranno a pagamento. Quindi chi vorrà potranno andare da lunedì prossimo su Live Ticket, ci saranno dei biglietti da acquistare e di fatto si prenoteranno direttamente i posti sulle tribune. I biglietti sono sia per lo spettacolo del sabato sera realizzato da Colonia Unia Fanestris che è il grande spettacolo che coinvolgerà tra l'altro tutti gli altri gruppi storici presenti. Vi consiglio la partecipazione e il biglietto costerà 5 euro intero e 3 euro ridotto. Sia l'evento della domenica, la pompa magna, quindi la grande parata e poi la corsa delle bighe dove le tribune costeranno 8 euro e ridotto invece costeranno 5 euro. Quindi chi vorrà potrà andare nel sito www.fanonfortuna.eu dove trovare tutte queste informazioni o nei siti ad acquistare i biglietti. E allora diamo il benvenuto anche ai nostri prossimi ospiti per parlare appunto delle preziose collaborazioni storiche direi come la Colonia Iulia Fanestris sempre attenta a riproporre e rievocare appunto i vari aspetti del modus vivendi dell'epoca e io quindi direi di partire innanzitutto dal tema di quest'anno. Il tema che abbiamo suggerito quest'anno è le feste e le cerimonie nell'antica Roma. Abbiamo fatto sì che le fazioni potessero lavorare su queste tematiche. Il campo è molto vasto, intanto per ricordare le feste potevano essere i saturnaglia, i cereaglia, le vestali, quindi andare a specificare alcuni momenti di vita dell'antica Roma. E le cerimonie ce ne sono diverse. Il matrimonio, come si effettuava il matrimonio anticamente, una delle manifestazioni più importanti e più sentite era il funerale. Quindi si esaltava la famiglia del defunto e quella che poi metteremo in scena quest'anno è il trionfo. La faremo in due momenti specifici. Uno è il sabato sera, il sabato sera nell'Arena del Pincio. Il nostro tradizionale spettacolo quest'anno si è ampliato e è diventato una battaglia. Quindi faremo combattere i nostri legionari contro dei rivoltosi e è da segnalare che la sceneggiatura è nostra. Quindi abbiamo voluto dargli un'impronta anche locale a questo che è lo spettacolo del sabato sera. Si conclude poi lo spettacolo la domenica. Perché la domenica celebriamo quello che era uno dei momenti più importanti per l'imperatore, per chi vinceva delle battaglie e delle guerre ed era il trionfo. Una pompa magna con i vari personaggi, i vari quadri che si potevano vedere anticamente con il trionfo del condottiero. Naturalmente in queste fasi abbiamo la collaborazione dei gruppi sia di danza che anche i gruppi che saranno nostri antagonisti nella battaglia del sabato sera. Mentre per quanto riguarda invece le nostre attività rievocative noi dal giovedì all'interno del Palazzo San Michele, e anzi vorrei ringraziare per la gentile concessione dell'Università di Urbino, e ricreiamo una domus. Una domus in tutti i suoi particolari con musica, spettacoli e momenti di vita della domus di una famiglia aristocratica dell'antica Roma, dell'antica Fano in Fortuna, perché ricordiamoci che siamo a Fano. E poi proseguendo questo viaggio attraverseremo un macellum. Il macellum era il mercato, un mercato antico dove ci saranno degli artigiani che lavoreranno in diretta e faranno vedere quello che era il caotico mercato di Fano per poi concludere in una fullonica. La fullonica non è altro che una tintoria, una lavanderia, e anche lì faremo conoscere alcuni aspetti di questa vita di duemila anni fa. Francesco, quanti rievocatori sarete numericamente parlando? Saremo in tanti, saremo in tanti perché la nostra associazione ha dei soci che sono di tutta Italia, quindi verranno i nostri soci dal Veneto, dal Friuli, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dalle Marche. Quindi 70-80 persone andranno ad animare i nostri appuntamenti. Bene, non mancherà l'alleanza degli elleni. Marco, buonasera. Buonasera. Ben trovato. Ma non mancheranno anche altre alleanze di cui tu sarai proprio l'illustratore. Insomma, ci saranno tanti gruppi di rievocazioni importanti. Senz'altro, un grande progetto come la fanno un fortuna è la necessità di stringere alleanze e collaborazioni in ambito sia territoriale che nazionale. Infatti, la fanno un fortuna come ce la ricordavamo anch'io quando ero piccolo, credo che gli abbiamo dato un imprinting ancora maggiore e fa piacere anche vedere che la realtà fanese sempre più cerca di avvicinarsi al lato storico e anche la società ci richiede di avere una curatezza storica culturale sempre maggiore per poter avere ad ambire a far diventare a livello nazionale e internazionale questa manifestazione. Nello specifico noi infatti curiamo tutta la parte che riguarda gli accampamenti storici che saranno sparsi per tutta la città. Come sempre al Pincio ci troverete a noi con il tiro con l'arco, le favole per bambini, l'onagro che è tanto piaciuto l'anno scorso grazie agli amici di Rimini e ci saranno anche ricostruzioni romane al Pincio. La cosa nuova che vogliamo diciamo incentivare ad andare a conoscere è l'accampamento dei Celti che quest'anno è unificato molto più grande sempre lungo le mura augustee proprio perché il termopolium è stato spostato e quindi cerchiamo di ricreare un ambiente il più filologico possibile e cercare di catapultare i turisti ma anche i fanesi diciamo per quella mezz'ora quell'oretta che passeranno una passeggiata di sembrare di essere nell'epoca però cerchiamo di abbracciare tutta la città andando fino ai giardini amiani sia al lato nord che al lato sud quindi verso il Pinobar e verso diciamo Caffè Centrale con ricostruzioni romane sempre grazie alle collaborazioni che abbiamo in ambito nazionale verranno dei gruppi diciamo la Decima Leggio Centoria Picena per città ne alcuni Civiltà Romana i gladiatori dei Ludus e Emilius e sempre questi gruppi animeranno tutto il centro storico quindi ci saranno delle ronde cittadine per il corso per la piazza con didattiche che inizieranno da giovedì 13 alle ore 18 solamente al Pincio e il venerdì sabato e domenica in tutto il centro storico nello specifico poi sempre gli stessi gruppi cercheranno ci porteranno ad animare il venerdì sera con le ore 10 e 10 sì non mi vorrei sbagliare con la battaglia SCAB a cura di Epica dove lì ci saranno delle battaglie vere quindi sono armi simulate che però fanno vivere emozioni forti e sportive non c'è niente di deciso e è spostato dal sabato e al venerdì quest'anno grazie all'invito della Colonia collaboreremo e faremo da ribelli ce la metteremo tutta a insienare una battaglia di tipo rievocativo e quindi dove si dà più spazio alla parte filologica alla parte territoriale quindi tutta culturale e però anche lì ci sarà da divertirsi sempre questo sabato alle 9.45 giusto? tra l'altro ci piace anche sottolineare la riproduzione fedele dell'equipaggiamento militare insomma e quant'altro perché questi sono ecco particolari degni di nota assolutamente è il duro lavoro invernale dove approfondiamo le nostre ricerche e poi lavorando riproduciamo quella che è una panoplia militare o piuttosto dei vestiti per delle domine o per anche molto più semplici per i comuni cittadini sì infatti infatti se vorranno potranno alle 5-3 quarti del sabato ci sarà proprio una didattica specializzata della nostra ricostruzione quest'anno porteremo la falange spartana siete sempre stati abituati a vedere i macedoni quest'anno torniamo un po' più indietro alla guerra del Peloponneso circa 300 rivocatori siamo tornati in numeri pre-covid bene e quindi gli abbiamo elencati un po' tutti quanti gli appuntamenti che potranno comunque reperire nel programma e anche naturalmente su internet www.fannonfortuna.eu bene io ringrazio i nostri ospiti vi lascio la parola per invitare il pubblico a casa niente vi aspettiamo la prossima settimana con il mercoledì dedicato all'inaugurazione faremo un rito dedicato al fuoco il fuoco eterno di Fanon Fortuna quindi questo fuoco accompagnerà tutte le associazioni le fazioni per questi giorni di festa di festa romana e poi inizieremo il giovedì dal primo dal tardo pomeriggio dalle 18 a fare rivocazioni nella zona del pincio e dell'università e poi il grande clou esatto il grande clou con l'arrivo delle armate extra fanesi che andranno ad animare tutto il centro storico e quindi vi invitiamo a venire già dal mercoledì fare una passeggiata per il centro e incontrare una ronda di legionari romani sì non vi spaventate se caricano bene il nostro primo approfondimento dedicato alla Fano dei Cesari termina qua io ringrazio i nostri ospiti ringrazio Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione arrivederci grazie a tutti